Buongiorno Milano! E' il mio secondo comizio, il primo l'ho fatto ad Arezzo due giorni fa, ma qua è incredibile, siete tantissimi. E' come avere davanti a sé una legione! La decima legione! E allora vi racconto il perché sono qua, perché ci sono tantissime ragioni per cambiare questa Europa. Ma io ve ne racconterò solo una, la decima ragione, e si chiama Elena e Michela e sono le mie figlie. E io vorrei dare a loro un'Italia migliore e un'Europa migliore, perché questa Europa non ci piace. E allora vorrei un'Europa che fosse sicuramente più sovrana, perché la sovranità degli stati è intoccabile, e quella su cui si basa tutta la nostra nazione, tutta la nostra identità. E io mi sono trovato a combattere per l'Italia e per gli interessi nazionali in ogni campo di combattimento di questa terra. Sono stato in Somalia, in Ruanda, in Yemen, in Libia, in Afghanistan, in Iraq, in Costa d'Avorio. E oggi penso che sia forse più promettente continuare a combattere, ma cambiando il campo di battaglia, sedendomi sugli scranni di Bruxelles e scavando la pietra come la goccia che casca continuamente, senza mai fermarsi, senza demordere, senza lasciar perdere, senza mollare neanche un millimetro. E se ogni attività propositiva dovesse fallire, allora comincio con la mia specialità, il sabotaggio. Il sabotaggio di qualsiasi iniziativa che dovesse cercare di distruggere le nostre tradizioni, la nostra famiglia, il nostro comune sentire, le nostre radici, il nostro suolo, il nostro sangue. Perché volenti o nolenti siamo figli di una terra, di certi padri, di certi nonni, di certi parenti e questo è quello che siamo. E quindi vorrei anche un'Europa più sicura, dove soprattutto qua a Milano, voi sapete, che ogni donna ed ogni ragazzo ed ogni nostra figlia dovrebbe essere libera di poter uscire e passeggiare per ogni angolo della città, senza la paura di essere molestata, aggredita o derubata. È un'Europa più identitaria perché i popoli sono diversi, l'identità dei popoli esiste e voi ne siete una dimostrazione. Noi siamo quello che siamo perché abbiamo delle caratteristiche specifici che ci contraddistinguono. Abbiamo il nostro modo di interfacciarci l'uno con l'altro, la nostra lingua, la nostra religione, perché volenti o nolenti la cristianità ci unisce da Caponord a Malta ed è una delle caratteristiche che ci rende europei più di ogni altra. E vorrei anche un'Europa più ricca, perché senza ricchezza e benessere non possiamo fare niente. Ci stanno vendendo l'ambientalismo ideologico, quello che vi costerà 70-80 mila euro, quello che proibisce agli agricoltori di coltivare i loro campi, quello che proibisce la cultura tradizionale nelle nostre valli, nelle nostre montagne, nelle nostre pianure a beneficio delle monoculture che non sono assolutamente indicate per la nostra bellissima nazione. E invece no, senza la ricchezza non possiamo essere ambientalisti, perché l'ambientalismo è un lusso che solo i ricchi si possono permettere. Andate a vedere nei paesi poveri quanto sono ambientalisti, come fanno la raccolta differenziata dei rifiuti, come fanno la distinzione fra le acque bianche e le acque nere. Quindi solo con le risorse si può essere ambientalisti, ambientalisti seri, pragmatici, quelli che vogliono rispettare l'ambiente perché è dall'ambiente che traggono la linfa vitale per poter incrementare il proprio benessere. E anche quelli che diffondono l'idea dei diritti per tutti, più diritti, diritti ad ogni angolo di strada, dovrebbero ricordarsi che per favorire i diritti bisogna avere le risorse, perché ogni diritto ha un costo sociale ed economico. Prima ha parlato il ministro Valditara, parliamo di un diritto a cui lui dedica la sua vita, il diritto allo studio. Ci vogliono le scuole, ci vogliono i professori, ci vogliono i libri, ci vogliono le strutture. E tutte queste strutture costano. E se non si hanno le risorse non si possono dare diritti a tutti. Anzi, i diritti rimangono lettera morta, un'utopia, un'esca con la quale vi prendono a lamo e vi portano a spasso per il mare. Solamente avendo le risorse si possono realizzare i diritti e noi ne vogliamo sempre di più. E i diritti sono quelli per tutti, sono quelli a cui ogni diritto corrisponde un dovere. Questi sono i veri diritti, non i capricci che ogni tanto ci fanno passare per diritti, cercando di prenderci in giro. E vorrei anche un'Europa più libera, dove si possa parlare, dove si possano esprimere le proprie opinioni, dove non si debba più aver paura di nominare certe parole. certe affermazioni, certe idee, certe pareri. Le idee si combattono sul piano delle argomentazioni, non si combattono con la censura o nelle aule dei tribunali. La critica è il concime del progresso. E grazie alla critica, grazie al dubbio, grazie al mettere in discussione qualsiasi idea, anche la più bislacca, che siamo arrivati al punto dove siamo. E qualche centinaio di anni fa, un qualcuno che si chiamava Galileo Galilei, è partito pure da qua, criticando quella che era considerato il pensiero unico, e ha rischiato di essere messo a rogo. Quindi, e viva la libertà, e questa è l'Europa che noi vogliamo. Un'Europa dove il diritto alla contestazione e alla manifestazione sia sacrosanto, ma debba adeguarsi alle regole dell'ordine pubblico. Debba adeguarsi alle regole dell'ordine pubblico. Quello che mi farà brividire non sono i cordoni di sicurezza di poliziotti e carabinieri, non sono le forze dell'ordine. Quello che invece a me farà brividire sono i giovani e i manifestanti che sputano sui poliziotti e li prendono a calci. E' quello che mi farà brividire. E' là che sono convinto che abbiamo sbagliato qualcosa. E inoltre, e infine, vorrei un'Europa più meritocratica. Un'Europa dove un giovane armato dei propri meriti e delle proprie capacità possa realizzarsi nel miglior modo possibile. Perché da soldato sul campo di battaglia non lasciamo indietro nessuno. Ma facciamo volare chi ha le ali. facciamo galoppare i puro sangue nelle praterie perché loro saranno il traino di tutti quanti. Questa è l'Europa che vorrei. Vorrei un'Europa dove il sogno americano diventi il sogno italiano ed europeo. Lasciamo spazio a chi ha le capacità, a chi ha i meriti, a chi vuole realizzarsi. Questa è l'Europa che vorrei. E siccome ultimamente ci stanno vendendo un altro concetto, quello dell'inclusività. Dobbiamo essere inclusivi. dobbiamo aprire le nostre case a chiunque voglia entrare. Dobbiamo condividere i nostri pasti. Dobbiamo accettare tutto. E invece io che sono una persona notoriamente controcorrente, non so se ve ne siete accorti, io voglio essere esclusivo. esclusivo perché l'esclusività attira tutti quanti. Chiunque è attratto dall'esclusività. Dite bene uno che non è attratto dalla Ferrari che vince il Gran Premio, dalla squadra del cuore della quale farebbe parte. Vorrebbe far parte. Ed è per questo che voglio essere esclusivo ed essendo esclusivo mi rivolgo esclusivamente a voi, cittadini italiani e cittadini milanesi. perché il mio contratto, qualora lo vorrete, sarà solo con voi. Perché io voglio difendere i vostri interessi e quelli di nessun altro. Gli interessi dei cittadini italiani come voi, dei milanesi, gli interessi degli agricoltori italiani che devono essere liberi di coltivare il loro campo, devono essere liberi di produrre tutti quei prodotti che sono l'eccellenza nel mondo intero, gli interessi degli imprenditori italiani che non devono vedere il frutto del loro sacrificio e della loro determinazione svenduto alle banche e alle multinazionali e gli interessi degli studenti italiani che non devono essere pervasi dalle ideologie di genere e dalle teorie mistificatorie e anti-identitarie che l'Europa ci vuole diffondere. Se invece il vostro voto lo volete dare a qualcuno che faccia gli interessi di qualcun altro, non lo date a me, non lo date a me, perché sicuramente io farò esclusivamente i vostri interessi. e allora l'otto e il nove giugno prossimo sapete cosa fare? Andate alle urne, votate per la Lega e scrivete il nome Vannacci sulla scheda e al vostro segnale scateneremo l'inferno.